Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la cronaca giudiziaria e ci occupiamo ancora di ricostruzione dopo la sentenza di primo grado che ha assolto gli imputati nel processo legato all'appalto per la ricostruzione della questura aquilana la procura ha annunciato la volontà di voler presentare appello. Il servizio di Giorgio Alessandri. Gli imputati che a vario titolo si sono occupati dell'appalto di ristrutturazione post terremoto della questura dell'Aquila vanno condannati. Lo sostiene il procuratore protempore della Repubblica dell'Aquila Stefano Gallo in relazione alla sentenza assolutoria di primo grado sull'inchiesta del presunto innalzamento dei costi di ristrutturazione dell'edificio lievitati da 3 a 18 milioni. A dover affrontare verosimilmente un nuovo processo in corte d'appello. Giuliano Genitti, all'epoca dei fatti, responsabile del procedimento, Lorenzo De Feo, direttore dei lavori e l'ex provveditore Giovanni Guglielmi e Carlo Clementi, rappresentante dell'amministrazione per conto della quale aveva sottoscritto il contratto con la ditta. Secondo il PM, i quattro avrebbero violato le normative in materia di appalto pubblico, fra tutti quelli della libera concorrenza che avrebbe permesso senza alcuna gara di far lievitare i costi del 455% e che portarono al secondo contratto di riappalto senza alcuna gara. Violata, sempre secondo il procuratore capo, anche la norma che permette di derogare al principio di evidenza pubblica quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalle procedure del bando di gara. Inoltre, si è omesso di considerare, in sede di iniziale progettazione dell'intervento, la necessità dell'adugamento sismico delle strutture dell'edificio, circostanza prevedibile, facendone invece oggetto di un secondo progetto per 18 milioni e mezzo. Sempre secondo Gallo, ricorre nell'atto impugnato anche il dolo, che sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese dallo stesso ex sindacato del procedimento, Franco Braga, che ha fatto parte del comitato tecnico-amministrativo in relazione alle opere della questura, secondo cui lo stesso Giovanni Guglielmi, membro dello stesso CTA, gli avrebbe dichiarato l'intenzione di assegnare i lavori alla Inteco, poi sostituita da altra società. Proseguiamo con la cronaca. Due carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesilvano sono rimasti feriti nella notte dopo essere stati speronati da una Fiat Punto a cui avevano imposto l'alti. Due militari sono ricoverati all'ospedale di Pescara con prognosi di 35 e 45 giorni e dovranno essere sottoposti ad intervento chirurgico. Dopo mezz'ora di inseguimento hanno fermato il conducente della Punto, un 53enne residente a Monza che ora, sottoposto a fermo, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e continuata e lesioni personali gravissime. La Punto era stata notata sulla riviera di Montesilvano ed inseguita fino in via Vestina dove ha urtato due auto parcheggiate e poi speronato la gazzella dei carabinieri. E ancora un'altra notizia, piazzavano inserzioni su siti di compravendita online per cedere costosi accessori da bici da corsa a prezzi decisamente concorrenziali. Una volta però ricevuto l'accredito del denaro su carta prepagata dopo aver condotto trattative telefoniche sparivano nel nulla senza spedire la merce. Protagonisti della vicenda, un 19enne romeno residente nel Terramane e una trentenne albanese residente nelle Marche, nel Pesarese, scoperti dai carabinieri di Carpineti nel Reggiano e denunciati per il reato di concorso in truffa. Lettera aperta del vescovo aquilano Monsignor Petrocchi che interviene sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto a Trieste l'ex parroco di Pizzoli, Don Piccoli. Il vescovo metropolita auspica che il prelato accusato di omicidio volontario aggravato possa dimostrare la sua innocenza. Sentiamo. Con profondo dolore ha appreso la notizia che Don Paolo Piccoli, sacerdote incardinato nel presbiterio di questa arcidiocesi ma da sei anni rimorante fuori dal territorio aquilano e indagato dalla magistratura con l'accusa di omicidio a danno di un anziano sacerdote di Trieste. Non ha avuto mai modo di incontrare personalmente Don Piccoli che, con il permesso del mio predecessore Monsignor Molinari, da novembre 2010 ha lasciato questa comunità ecclesiale per riavvicinarsi al suo ambiente di provenienza. Da quanto mi è stato riferito però, tale decisione fu presa perché le drammatiche difficoltà del post-sisma interferivano negativamente sulle sue condizioni di salute. Lo scrive in una lettera aperta l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi commentando la notizia che vede indagato un parroco che prestò il suo ministero nell'Aquilano relativa all'omicidio del sacerdote 92enne Giuseppe Rocco originario di Barbana d'Istria, trovato cadavere due anni fa nella sua stanza al secondo piano della casa del clero di Trieste di via Basenghi. Inizialmente si era ipotizzata la morte naturale ma poi i risultati del RIS di Parma hanno fatto cadere i sospetti su Don Paolo Piccoli che per diversi anni è stato parroco di Pizzoli. Alcune tracce ematiche rinvenute nella stanza della vittima parterrebbero infatti proprio a Don Paolo che fino ad un paio d'anni fa viveva nella stessa casa del clero, ora incriminato per omicidio volontario aggravato nell'ambito di un'inchiesta che inizialmente lo vedeva solo come testimone. L'udienza preliminare nei confronti del religioso originario di Verona è stata fissata al prossimo 13 dicembre. Inoltre, continua Monsignor Petrocchi che si appella alla presunzione d'innocenza per tutti gli indagati, con tutto il cuore spero che Don Paolo Piccoli possa dimostrare la sua estranetà ai fatti delittuosi che gli vengono contestati. Per quanto mi riguarda, conclude Petrocchi, con l'intera chiesa aquilana c'è la ferma volontà di dare ogni apporto perché venga fatta giustizia e sia tutelata fino in fondo la legalità. Adesso cambiamo argomento. La prossima settimana a Spoltore verrà celebrato il primo matrimonio gay con rito civile nella nostra regione. Abbiamo ascoltato il primo cittadino di Spoltore, Luciano Di Lorito, Paolo Lorenzetti. Con il sindaco Di Lorito di Spoltore parliamo di questo primo matrimonio civile che ci sarà a Spoltore il 22 agosto. Una notizia comunque che ha fatto un po' il giro di tutto l'Abruzzo sarà proprio la città che lei presiede, sindaco, ad ospitare questa cerimonia. Noi abbiamo semplicemente dato seguito a quella che la legge prevede quindi so che altri comuni in Italia hanno già fatto. Mi dicono che siamo il primo comune d'Abruzzo ma sicuramente a breve si aggiungeranno anche altri. Abbiamo dato seguito a quella che è una nuova legge per quanto riguarda le unioni civili. Non sarà lei a celebrare il matrimonio però tanti sindaci hanno avuto qualcosa da ridire su questi matrimoni invece qui a Spoltore da questo punto di vista non ci saranno problemi. Ma assolutamente no perché la legge noi dobbiamo dare seguito alla legge guai se non facessimo questo non rispetteremmo la legge. Questa è la legge, ognuno ha le sue opinioni rispetto alle leggi ma comunque vanno fatte rispettare ed applicare. Quindi qualora dovesse esserci la possibilità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di celebrare un matrimonio con rito civile qui a Spoltore non ci saranno problemi da questo punto di vista? Assolutamente no, non ci sono problemi così come non ci sono problemi per altri matrimoni. Cambiamo ancora argomento. Inquinanti nella norma. Questo è il risultato delle analisi condotte dall'Arta all'interno della discarica abusiva di Colle Marconi a Chieti, andata a fuoco l'estate dello scorso anno. Il progetto di bonifica però resta al palo perché servono 500.000 euro. Arrivano dati rassicuranti dai prelievi effettuati dall'Arta nella discarica abusiva di rifiuti di Colle Marconi di Chieti andata a fuoco per un incendio doloso il 27 giugno dello scorso anno. L'Agenzia regionale per l'ambiente e il territorio ha esaminato l'acqua piovana caduta sul terreno e i campioni di terra prelevati nella discarica. Nel primo caso i parametri chimici di base, i metalli, gli idrocarburi e i solventi organici sono risultati nella norma. Stessa cosa per i campioni di terreno dove l'Arta ha cercato metalli, solventi, idrocarburi, policiclici, aromati. Tutto entro i limiti di legge. A rendere noto il contenuto delle analisi è stato il comune di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio infatti aveva chiesto che venissero analizzati gli inquinanti dell'impianto che ricade nel comune capoluogo e che è al confine con quello di Bucchianico. Risultati confortanti, dice il primo cittadino che attende che l'Arta invii i codici CER dei rifiuti stoccati in modo da avviare il progetto di recupero. Proprio quello della bonifica e del recupero del sito è l'aspetto più complesso ma anche il più urgente ed atteso dai cittadini preoccupati anche per la situazione d'abbandono della discarica abusiva. Per bonificare l'area servono tra i 450 e i 500 mila euro che dovranno essere utilizzati per prelevare e classificare i rifiuti presenti, per smartirli e per mettere in sicurezza l'area interessata. Il comune di Chieti ha le casse in rosso e quindi si guarda i fondi regionali che per il momento non sono stati ancora stanziati. Siamo lieti che i risultati delle analisi effettuate dall'Arta restituiscano una situazione di tranquillità sui terreni interessati dall'incendio dello scorso 27 giugno 2015 che è interessato alla discarica di Colle Marcone ma non possiamo dimenticare che quella discarica doveva essere bonificata molto prima che venissero appiccate le fiamme. I consiglieri comunali di Chieti del Movimento 5 Stelle Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo continuano ad esprimere un giudizio fortemente negativo su quelli che ritengono essere comportamenti omissivi, gravi e colpevoli da parte delle istituzioni preposte ai controlli e alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica del sito. Torniamo all'Aquila, verrà esaminato entro ottobre il project financing da 100 milioni per l'ampiamento dell'ospedale San Salvatore. Un project financing da 100 milioni di euro per ampliare l'ospedale San Salvatore e renderlo più funzionale alle esigenze di operatori e pazienti. E' quello finito sul tavolo del manager dell'ASRE dell'Aquila, Rinaldo Tordera e presentato da due aziende, l'Aquilana Mancini e la Guerrato che nel capoluogo gestisce la manutenzione degli alloggi del progetto case e in modo gli abitativi provvisori, mentre nel post-sisma ha ristrutturato tre padiglioni proprio dell'ospedale regionale. Entro il prossimo 28 ottobre gli uffici tecnici dell'azienda sanitaria dovranno valutare il progetto di finanza ed esprimere interesse o meno sull'ipotesi progettuale avanzata dalle due ditte. In caso di interesse, la parola finale spetterebbe alla regione, già alle prese, con un altro project financing, quello da 400 milioni a cavallo tra Chieti e Pescara. Gli interventi proposti sull'Aquila sarebbero meno onerose e invasivi. Oltre alla cifra, 100 milioni, si parla di realizzazione di nuovi parcheggi, anche sotterrani, la vera spina nel fianco del San Salvatore, una nuova palazzina per ospitare degli uffici e la copertura del violone centrale, che assumerebbe la connotazione di un vero e proprio spazio attrezzato. In cambio la Guerrato chiederebbe di gestire i servizi per conto dell'ospedale, come mensa, polizia e manutenzione. Nelle prossime settimane si saprà quali saranno gli orientamenti dell'Asla, che già nel 2011, sotto la guida di Silveri, aveva presentato un progetto da 70 milioni per il rinnovamento della struttura ospedaliera, ma non se ne fece nulla. Cambiamo ancora argomento. Il gemellaggio fra l'Abruzzo e la Serbia passa per Francavilla e verrà siglato a breve tra le due municipalità interessate. Un'occasione, ha detto il sindaco Antonio Luciani, importante dal punto di vista turistico e anche economico-commerciale. Con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, parliamo di un'iniziativa che avete messo in campo, che svilupperete anche nelle prossime settimane. Un gemellaggio importante con una città della Serbia. Un gemellaggio importante a livello turistico, ma anche commerciale e imprenditoriale. Sì, perché un nostro imprenditore, un francavillese, puro sangue, Giuseppe Verna, ha aperto uno stabilimento lì in Serbia. Lui ha anche un'attività qui in Abruzzo, un'attività molto rilevante, che lavora con parecchie multinazionali. Ora questa cosa lo renderà più competitivo e quindi conserverà non solo la forza lavoro in Italia, ma l'intelligence, la testa sarà qui da noi. Da qui ci siamo conosciuti con il sindaco serbo, andrò a settembre ad inaugurare questo stupendo stabilimento. Loro vogliono intrattenere rapporti con noi. Noi abbiamo da offrirgli il nostro turismo, il nostro mare, il nostro commercio. Loro hanno da offrirci tanto, quindi nel mondo della globalizzazione si va avanti così e Francavilla segna questo punto importante. Anche a livello turistico far conoscere Francavilla fuori dai confini regionali e italiani è importante. Tra l'altro nei paesi dell'Europa dell'Est dove si sta sviluppando anche un turismo che porta verso l'Italia. Sì, anche perché sono di fronte a noi, sono nostri vicini di casa. Al di là dell'Adriatico ci sono loro e noi siamo ben lieti di sviluppare delle relazioni con la Serbia, con gli amici serbi. Speriamo che questo primo approccio sarà appunto il primo di una serie infinita di relazioni. Piazza 4 Novembre a Francavilla ospiterà il prossimo 19 di agosto la festa dell'unità organizzata dal Partito Democratico, un'occasione per parlare con il territorio dei problemi con cui devono fare i conti i cittadini e delle proposte per risolverli. Francavilla ospiterà il 19 agosto la festa dell'unità. Siamo con il segretario provinciale del PD di Chieti, Chiara Zappalorto, per parlare di questo evento. Come mai questa location? Tra l'altro è la prima volta che si tiene la festa dell'unità dal 2005. È la prima volta, faremo la festa a Francavilla. C'è Francavilla un partito nuovo, vincente, forte, radicato, coeso, che ha deciso di palessare questa voglia di stare insieme con la festa dell'unità, che è il momento massimo di incontro politico del Partito Democratico. E la prima volta sarà un momento bello di condivisione, di politica, di gastronomia, di musica. Quindi vi invitiamo, vi invitiamo a partecipare. Piazza 4 Novembre sarà la piazza che ospiterà questo evento. Sarà un momento anche per parlare a livello politico di quello che sta accadendo in Abruzzo. Lei parlava proprio di Francavilla, dove c'è stata la netta vittoria del sindaco Luciano. Sì, la vittoria di Francavilla è stata una delle vittorie più belle sicuramente. In provincia di Chieti devo dire che ci siamo difesi bene. C'è stato un bellissimo momento di vittorie alle ultime amministrative. Parleremo di politica, parleremo di Abruzzo e parleremo del futuro e soprattutto parleremo di referendum che è il prossimo appuntamento che avremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quali saranno gli ospiti che parteciperanno a questa festa? Sarà una cosa molto locale, quindi ci saranno i nostri consiglieri regionali, i nostri amministratori locali, i dirigenti locali che vedete dietro di me. Sarà una cosa per incontrare, per consentire a noi di incontrare i nostri iscritti, i nostri militanti, i nostri simpatizzanti e per condividere i nostri progetti per il futuro. Restiamo sempre a Francavilla perché si scaldano i motori per la festa del Santo Patrono San Franco. Questa sera a concerto di Elio e le storietese, poi domani i tradizionali fuochi pirotecnici sul pontile della Sirena. Si confermano le nostre due date più importanti del calendario estivo che quest'anno è stato superlativo, un'offerta di qualità che continua ancora fino a fine mese. Stasera Elio e le storietese dalle 22, un gruppo non serve dirlo di grandissimo livello. Domani sera i fuochi a mare, sempre da Piazza Sirena, sempre dalla mezzanotte, con il consueto rito religioso della processione di San Franco che partirà alle 19.30 dalla chiesa di San Franco. Mi preme ricordare la mobilità alternativa che abbiamo attivato suggerendo a tutti nuovamente di utilizzare mezzi alternativi come la bicicletta o comunque di uscire a piedi. In ogni caso il Comune si è attivato sia nella data di oggi, quindi 17 agosto, sia nella data di domani 18 per una navetta bus che coprirà tutto il territorio e con il taxi sociale per i cittadini diversamente abili che potranno comunque soffrire di questo servizio. Tutte le informazioni come sempre facciamo le trovate sulla pagina Facebook del Sindaco, sulla mia, su quella dei colleghi e comunque sul sito del Comune. invito nuovamente appunto a utilizzare veramente la mobilità alternativa e soprattutto a godersi queste due belle serate delle feste patronali. È stata un'estate che tra l'altro ancora si conclude che a Francavilla è stata caratterizzata da grandi numeri di presenze. Assolutamente sì, insomma un momento importantissimo è stato quello del concerto di Antonello Venditti, per noi insomma un grande onore ospitare un artista di questo rilievo. C'è stato Francesco De Gregori, io credo che il commercio ne abbia beneficiato moltissimo, ma in genere credo proprio il clima della città. L'Oro Rosso, lo zafferano, è protagonista della seconda edizione della Festa dei Solchi che quest'anno apre le manifestazioni legate alla perdonanza celestiniana. Germana Dorazio. Con l'apertura del primo solco per accogliere i nuovi bulbi di zafferano si aperta ufficialmente la stagione di semina dell'Oro Rosso sulla piana di San Pio delle Camere. I primi a depositare il prezioso seme sono stati i giocatori della Gran Sasso Rugby. Tre giorni di festa tra musica, mostre mercato e prodotti tipici per rinnovare la magia della tradizione della coltivazione dello zafferano, simbolo internazionale dell'Aquila. La seconda edizione della Festa dei Solchi organizzata dall'Associazione Le Vie dello Zafferano festeggia anche il primo anno della Banca dello Zafferano, una scommessa dell'Associazione per allevare nuove generazioni di coltivatori dell'Oro Rosso d'Abruzzo. Cresce la produzione dello zafferano, cresce la produzione dei bulbi, quest'anno anche io ho raddoppiato i bulbi che ho seminato l'anno scorso, cresce anche la manifestazione. Non ci saranno come l'anno scorso soltanto una serie di concerti itineranti nella Festa dei Solchi, ma ci saranno anche due giorni di attività a San Pio delle Camere, il 18-19 agosto. La Festa dei Solchi apre il calendario delle manifestazioni della perdonanza celestiniana, che culminerà con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio il prossimo 28 agosto. Ed ora siamo allo sport e partiamo con le Olimpiadi di Rio de Janeiro, perché l'Abruzzo è protagonista. Iniziamo dal Beach Volley. Paolo Nicolai, all'Ortonese Paolo Nicolai e Daniele Lupo, hanno infatti battuto in semifinale del torneo di Beach Volley, per 2-1 la coppia russa comprosta da Krasinilkov e Semenov, assicurandosi così il diritto a giocare la finale per la medaglia d'oro, medaglia sicura dunque per l'Italia. Il risultato storico per i colori azzurri, che mai erano arrivati così in alto in una Olimpiade nel Beach Volley. A sperare nell'oro ovviamente tutto l'Abruzzo, in particolare Ortona, dove è nato Nicolai. Continuiamo con la pagina dedicata alle Olimpiadi, perché continua il sogno di raggiungere la medaglia d'oro per il Settebello di Pallannuoto, dove c'è anche l'abruzzese Francesco Di Fulvio, tra l'altro autore di un gol nel quarto di finale vinto contro la Grecia. Sulla strada verso l'oro per il Settebello di Sandro Campania, altra vecchia conoscenza della Pallannuoto pescarese. In particolare ci sarà la bestia nera della Serbia, partita in programma domani alle 21.30. Allora noi andiamo ad ascoltare proprio un'intervista realizzata a Di Fulvio prima della partenza per il Brasile. Francesco Di Fulvio, un fuoriclasse che gioca con la nazionale italiana, sei uno dei migliori giocatori non d'Italia ma d'Europa. Stai portando in alto il nome di Pescara in giro per il mondo con la pallannuoto? Io ci provo, però sì, ti ripeto, sono molto orgoglioso di portare in alto il nome di Pescara al di fuori dell'Italia, in Europa e nel mondo. Mi impegno per farlo, per riuscirci al meglio e andremo a vedere cosa ne uscirà quest'estate. Siete a Pescara per questo collegiale per preparare, Francesco, le Olimpiadi di Rio de Janeiro. L'Italia che vuole essere protagonista ovviamente. Sì, sicuramente, ci stiamo facendo un bel mazzo soprattutto qui a Pescara. Stiamo preparando bene e veniamo da una World League fatta la scorsa settimana in Cina dove ci sono stati alti e bassi. Stiamo lavorando su quello che abbiamo visto lì, che abbiamo sbagliato, ma stiamo anche lavorando su quello in cui puntiamo, sulla nostra rapidità, sul nostro gioco di movimento. Diciamo che siamo fiduciosi. E dunque speriamo che l'Abruzzo riesca a farsi valere portando a casa delle belle medaglie. Andiamo avanti con lo sport, ma parliamo adesso del calcio di Serie A, in particolare del Pescara. Salta l'arrivo da Silva dal Torino, frenata per Trotta e Aquilani. Il Pescara lavora sul mercato, su altre piste. Intanto è partita la corsa al biglietto per la prima casalinga nel campionato contro il Napoli. Sfuma l'arrivo in riva all'Adriatico del difensore Gaston Silva. Il centrale uruguaiano del Torino sarà girato in prestito al Granada e non al Betis-Siviglia, altro club interessato al giocatore. Intanto resistono le alternative di Guzmix, Pisacane e Regini, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva invece per l'ingaggio del 23enne esterno d'attacco, all'occorrenza anche prima punta Jean-Christophe Beakbek, in prestito dal Paris Saint-Germain e consigliato al Pescara da Marco Verratti. Il Delfino aspetta una risposta. La società bianca-azzurra richiesto poi ufficialmente al Napoli Grassi, centrocampista di qualità e quantità, una mezzala utile per completare il reparto centrale. In stand-by anche l'affare Aquilani. Il 32enne centrocampista deve risolvere infatti prima il suo contratto con lo Sporting Lisbona. Rallentata anche la trattativa per l'attaccante Trotta. A Sassuolo è arrivato Matri con gli emigliani che contano ora di sfoltire la rosa. Dario Zuparic intanto ha rinnovato fino al 2020 con il Pescara. E la squadra prosegue la preparazione in vista della gara con il Napoli. Contro i partenopei non ci saranno Fornasier, Campagnaro e Nicastro. Già in vendita i biglietti per il match con la formazione dell'ex Maurizio Sarri. Si punta al primo sold-out della stagione allo Stadio Adriatico. Restiamo sempre a parlare del Pescara anche se poco impegnato nella partita di Team Cup contro il Frosinone. L'estremo difensore bizzarri è stato tra i migliori dei suoi nell'esordio all'Adriatico. Ascoltiamo l'esperto portiere che parla anche della prossima gara contro il Napoli. La prima partita è sempre che ci sono tante aspettative di come sta la squadra, di come affronta il campionato. Vincere è sempre importante perché ti dà un attimo di fiducia per tutto quello che abbiamo davanti. Io penso che la squadra ha fatto una bella partita, ma abbiamo sofferto soltanto nel secondo tempo qualche minuto che lì magari dobbiamo gestire meglio la palla e fare correre loro e non che correre noi. Però in linea generale penso che la squadra ha fatto una buona prestazione. Siamo contenti, fiduciosi e speriamo con tanta voglia tutto quello che viene. Sappiamo che ovviamente il Napoli è sul campione d'Italia, quindi sarà più difficile del Frosinone. Però noi andiamo partita dopo partita. Il Pescara ha un'identità di gioco. Non dobbiamo pensare che perché viene il Napoli già la partita è presa assolutamente. La partita bisogna giocarle. Bisogna affrontarle con l'espirito giusto. Ancora c'è di migliorare, sicuramente. Miglioraremo anche con il passo delle partite, con il passo del tempo. E continuare in questa linea, con questa idea. E tutti i convolti, che è lo più importante. E adesso restiamo sempre al calcio, ma scendiamo di categoria in Serie D. Tutto pronto per l'esordio in Coppa Italia contro il Monterosi per l'Aquila Calcio. Vediamo il servizio. Per l'Aquila Calcio non ci sono prove d'appello. L'obiettivo è vincere il campionato per recuperare subito la Lega Pro dopo una retrocessione amara. Il suo dalizio rosso-blu è stato chiaro. La scelta di mister Massim Morgia lo testimonia. Uno staff tecnico di prim'ordine e una squadra composta da tanti uomini di mister Morgia che con lui hanno vinto campionati e ottimi under, molti dei quali provenienti dalla Berretti Rosso-Blu. Ma alla squadra, che comunque è stata buona impressione nelle prime uscite amichevoli, manca ancora qualcosa. E il presidente Chiodi ha chiarito che si faranno ulteriori acquisti nei prossimi giorni per arrivare completi a Coppa e campionato. Domenica prossima, infatti, si va a Viterbo per affrontare il Monterosi, con pagine che poi l'11 Rosso-Blu si ritroverà anche il 4 settembre per la prima di campionato in casa. Il Genone F sembra più abbordabile rispetto agli altri, con molte trasferte in Sardegna, ma comunque ci sono squadre ben attrezzate, un esempio la formazione del Rieti. E poi sarà di nuovo a Derby dopo tanti anni con l'Avezzano. Dal punto di vista societario, a giorni verranno ufficializzati nuovi soci, che entreranno con il 5%, mentre si continua a lavorare per avere lo stadio d'Acqua Santa entro il mese di settembre. A giorni verrà siglata la convenzione per l'affidamento, e sembrano superati anche gli altri problemi. Del resto, anche l'allenatore aquilano si è esposto in prima persona per il nuovo stadio. O lo stadio, o vado via, e conoscendo il carisma di Morgia, questa non è solo una provocazione. Unità di intenti che sembra essere alla base quest'anno, e anche un gruppo che già appare affiatato. Allenatore in seconda, Federissimo di Morgia, Michele Coppola, preparatore dei portieri, Angelo Porracchio, che ben sta lavorando, preparatori atletici qualificati, e mister Renato Greco, che allenerà la Lignores, ex giocatore anche lui di Morgia, che si allenerà regolarmente con la prima squadra. Mancano ancora tasselli, poi ci sarà la presentazione, sperando di ricucire con i tifosi un rapporto essenziale. Prima di salutarci, ultima notizia che riguarda la Serie D, l'amichevole di questo pomeriggio alle 17, al campo sportivo di Nobesso, fra il San Nicolò e la formazione che milita nel campionato di promozione Abruzzo-Torre-Alex. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e poi alle ore 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata.